ciao e bentornati su questo canale dedicato al mondo dell'intrattenimento sulle navi da crociera sono qui perché vi voglio invitare ad un evento straordinario unico assolutamente imperdibile lunedì primo marzo alle 15 e 30 ci sarà la prima diretta facebook della pagina msc crociere italia un evento straordinario che sarà in diretta da msc grandiosa lascerò il link della pagina proprio in descrizione ma mi raccomando condividete e partecipate numerosi anche perché ci saranno tantissime sorprese sarà veramente un evento ricco ripeto da non perdere soprattutto per gli amanti del mondo delle crociere e soprattutto per tutti i fans di msc nel frattempo se ancora non lo avete fatto vi invito a scrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdere nessuno dei prossimi video che già vi dico che sono veramente tantissimi ancora una volta vi ringrazio tantissimo e ci vediamo lunedì alle 15 e 30 a bordo di msc grandiosa vento in poppa